presentazione EMAIA eccola 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 EMANUEL 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 E allora mentre sono pronti ci facciamo un applauso per caricarvi bene perché noi e mia mano siamo accoglienti facciamo il messo forte a caso e loro sono pronti ci diamo l'ok EMANUEL e l'era te che valla a Sessu a Sessu che valla che valla a Sessu a Sessu che valla che valla a Oloto Oloto che valla che valla a Oloto Oloto che valla che valla a Sessu a Sessu che valla che valla a Sessu a Sessu che valla che valla a Oloto Grazie a tutti. Il rino l'arte Grazie a tutti 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 Grazie a tutti